Gentili telespettatori, buonasera, vi ringrazio come sempre per essere assieme a noi a seguire gli avvenimenti di questa giornata di fine settimana di settembre che fra l'altro ci ha già portato nel autunno. E' una buona notizia quella con cui apriamo relativamente alla politica siciliana ma anche a quella che è l'amministrazione della politica siciliana, come ben sapete politica è una cosa poi l'amministrazione diventa un'altra cosa anche perché è partita la finanziaria che è l'elemento più importante per quanto riguarda appunto la gestione di tutto quello che compete alla regione siciliana. Vediamo i servizi. Si muove la macchina degli investimenti e delle spese in Sicilia. Il termine per tutti i dipartimenti regionali è il prossimo 8 ottobre, due settimane di tempo per inviare alla ragioneria generale le proposte di impiego di fondi da inserire nella bozza che farà da base ai disegni di leggi di bilancio per il triennio 2019-2021, legge di stabilità e collegato alla finanziaria. Documenti che passeranno al baglio dell'aggiunta regionale che poi a sua volta girerà all'arsa entro la fine del prossimo mese. Spese previste, missioni, programmi e titoli, questi alcuni dei capitoli da inserire specificando se si tratta di risorse vincolate o libere e poi le proposte per i disegni di legge di stabilità ed il collegato allo strumento economico di gestione dei fondi. Stiamo lavorando agli atti propedeutici, il mio governo è stato assai chiaro, noi siamo contrari alla polverizzazione degli interventi dal punto di vista finanziario, puntiamo essenzialmente sulla riqualificazione delle infrastrutture viarie, dell'edilizia scolastica, il recupero dei centri storici minori e la tutela del territorio in tutte le sue manifestazioni dove l'uomo è intervenuto spesso, quasi sempre ha creato danno. Abbiamo il dovere di recuperare il danno compiuto nei decenni passati, credo che in Sicilia ci sia bisogno di avviare una seria politica delle acque, noi utilizziamo soltanto l'11% dell'acqua piovana, tutto il resto poi va a mare e questo non ce lo possiamo permettere, quindi servono iniziative e incentivi a favore soprattutto delle imprese agricole perché si realizzano degli invasi artificiali e poi attenzione alle fasce deboli, agli poveri, agli ultimi abbiamo creato finalmente i cantieri di lavoro, mancavano da un pezzo, i cantieri di servizio, una boccata d'ossigeno per centinaia di famiglie particolarmente disagiate, la formazione è già partita, 217 milioni per l'edilizia scolastica, abbiamo avviato il monitoraggio dei ponti e delle opere d'arte infrastrutturali che potrebbero essere bisognose di interventi, abbiamo chiesto e ottenuto la collaborazione a pagamento dell'ANAS, tutto questo in meno di 9 mesi, perdonate se è poco. E speriamo che si continui su questa strada, così come bisognerebbe continuare su questa strada per quanto riguarda la lotta alla droga, è una lotta spesso che appare impari ma nella realtà invece gli inquirenti sono continuamente alla ricerca di poter fermare questo traffico che poi spesso diventa traffico di morte, pensate 11 kg di cocaina all'imbarcadero a Messina, sentiamo. 11 kg di cocaina erano ben occultati dentro quest'auto in transito dalla Calabria alla Sicilia, a scovarli la guardia di finanza di Messina che ha anche arrestato il corriere della droga recuperata, 10 panetti di sostanza stupefacente li vedete impossibile individuarli dall'esterno o con una semplice ispezione superficiale del veicolo, è stato grazie al fiuto infallibile di Dandy, questo meraviglioso esemplare di pastore tedesco in servizio negli imbarcaderi dei traghetti che collegano lo stivale alla nostra isola. Diverse le autovetture passate a setaccio dagli investigatori e dal cucciolone che ha dato un prezioso contributo all'attività portata avanti dalle fiamme gialle. Il suo tartufo con insistenza contro i pannelli interni della macchina, quelli delle portiere laterali, è stato così che i finanzieri hanno potuto localizzare il quantitativo di droga che era nascosto proprio nelle intercapedini del mezzo e ricoperto dai rivestimenti rigidi che sono stati immediatamente smontati. Il corriere, un uomo di origini calabresi, è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente condotto in carcere in attesa di giudizio. Le forze dell'ordine hanno anche proceduto al sequestro del mezzo utilizzato per trasportare la cocaina che se immessa sul mercato, fanno sapere gli inquirenti, avrebbe fruttato ingenti guadagni. Oltre a quello che dicevamo, la rovina poi della salute di tanti giovani in particolare. Anche a Catania, commissariato Borgo Ogni ha numerose controlli nella zona di piazza Rosolino Pino. Un giovane di origine colombiana ha ceduto sostanze stupefacenti di tipo marijuana ad altri due giovani. È stato indagato in stato di libertà. Ancora altri poliziotti in via delle finanze hanno notato quattro cittadini extracomunitari che azionavano all'angolo delle strade. Anche questi fermati sono cittadini del Gambia. Uno di questi aveva della sostanza stupefacente. Fra le altre cose, nei fori dei muri che sono in circolazione, oltre mille dosi di marijuana e di acisce. Fra le altre cose, via delle finanze è proprio vicino a quella della zona della Movida. Ancora carabinieri di piazza Dante nella lotta alla droga. Arrestato il 28enne catanese Vin Gangi, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva fra le altre cose 111 involucri in carta d'alluminio contenente crack, 30 dosi di cocaina, 3 bilancini elettronici di precisione, 100 Euro in contanti e tanto altro materiale che serve a tagliare la droga. Quindi come ben vedete una lotta continua e non so se a questo punto bisognerebbe cominciare a pensarci, ma è un discorso nostro personale, sulla liberalizzazione o meno. Ma cambiamo decisamente di argomento, parliamo del nuovo CDA di multiservizi a Catania. Vediamo un po' cosa sta comportando questa nuova nomina. multiservizi. Giuseppe Marletta lascia la SEC Trade che ha guidato finora e va alla multiservizi SPA partecipata del comune di Catania. Lo ha disegnato a capo della nuova governance dopo l'annuncio del rinnovo immediato dei vertici delle società etne, il sindaco Salvo Pogliese. Marletta, avvocato uomo del centro-destra ex San Martiano, già assessore comunale e provinciale in quota UDC, assume l'incadico in un momento delicato. La multiservizi avanza circa 7 milioni dal comune che intanto lotta per evitare il dissesto. Sì, è stata una sorpresa anche per me. Mi è stato comunicato dal sindaco che l'intenzione dell'amministrazione era quella di mettermi a capo del Consiglio Amministrazione dei Multiservizi e quindi così è stato. Noi chiaramente ci auguriamo che il dissesto venga scongiurato e certamente per la multiservizia serve un problema. Vedremo, so che abbiamo delle grosse risorse importanti che sono quelle umane, proprio dei lavoratori, puntiamo su quello. E' proprio l'avvertenza dei lavoratori la prima grana per il neodisignato non ancora formalmente insediatosi come prima azione. Marletta, d'intesa con il sindaco Pogliese, ha chiesto alle sigle sindacali che hanno proclamato uno sciopero per lunedì prossimo. La sospensione è prioritario avviare un percorso di collaborazione e trasparenza, afferma lo stesso Marletta. Sulla vicenda dai banchi dell'opposizione l'intervento di Salvo di Salvo, ex assessore della Giunta Bianco. I dipendenti della Multiservizi non sono lavoratori di serie C, dice, sottolineando che la maggior parte di loro è monoreddito con stipendi da 800 euro. Gli altri componenti del CTA sono l'avvocato Francesca Tambusco e Antonio Di Giovanni, ex crocettiano, tornato in quota autonomista. Ha parlato con gli altri componenti del CTA? In realtà no, ancora no, perché non li conosco, quindi non ho modo. Bene, buon lavoro per quanto riguarda Multiservizi. Andiamo ad Ancireala, restiamo nell'ambito in qualche modo comunale. L'approvazione del rendiconto di gestione si prevede che dal momento in cui i consiglieri comunali ne vengono a conoscenza possono passare 20 giorni per poter avere la votazione in aula. Invece la decisione dell'opposizione è avvenuta e a questo punto rinunciano a quelli che sono i 20 giorni canonici previsti, come vi dicevo, per la discussione, dando il via libera in maniera tale che si possa discutere fino in fondo in tempi brevissimi per poter vedere sia l'approvazione oppure la non approvazione, ma che comunque viene velocizzata con questi 20 giorni che l'opposizione concede all'amministrazione comunale. Qualcosa che ci riporta a quella che è la Sicilia, a volte si chiama terra ballerina, due elevissime scosse di terra vuota sono state registrate dall'Istituto di Geofisica e Volcanologia nella notte appena trascorsa. La prima scorsa a 1.21, una magnitudo 2.1, ecco perché non si è percepito niente, registrata nella zona del Catanese, in particolare con epicentro tra Militello in Val di Catania, Scordia e Palagonia. Seconda scossa alla 3.02, magnitudo 2 è avvenuta in mare a largo della costa palermitana, anche questa data l'entità ma anche la lontananza non è stata assolutamente percepita. Restiamo in qualche modo in campo, visto che avevamo parlato di scossa in alto mare, nel mare perché i pescatori lamentano molte discrezie per quanto riguarda la loro possibilità di continuare a svolgere questo mestiere. Sentiamo. 1.500 unità totali ma oltre due terzi rischia di perdere il posto di lavoro e in agonia il comparto pesca etneo che comprende Catania-Citrezza è riposto in primis. E' l'allarme lanciato dalla CGL etnea nel corso dell'incontro voluto permettere a fuoco i problemi principali delle marinerie siciliane di paradosso in un territorio che dovrebbe fare della pesca un fiore all'occhiello dell'economia ed invece è un quadro disastroso quello che emerge dalla relazione di Pino Mandrà, numero uno della sigla di categoria. Riteniamo che le regole messe in campo dall'Europa sono troppo stringenti ma perché c'è un problema di fondo, il problema di fondo è quello di favorire la pesca del nord Europa e non conoscere la specificità e le peculiarità della pesca del Mediterraneo. La raccolta firme già avviata tempo fa per l'estensione del testo unico del 2008 su salute e sicurezza, il riconoscimento dei rischi, le malattie professionali, la copertura mediante un ammortizzatore sociale unico ad oggi assente sono le principali battaglie per il mondo della pesca. Un ammortizzatore sociale come tutti gli altri settori io propongo un sistema simile alla disoccupazione agricola, un sistema che funziona anche perché su questo settore sarebbe ancora più facile perché quando i lavoratori vengono imbarcati la capitanaria di porto ne è subito a conoscenza quindi immaginate come potrebbe essere un sistema che funziona in modo assolutamente fluido un ammortizzatore sociale concreto che metta dei requisiti raggiungibili un'intera marineria siciliana, mi permetto di parlare per tutta la Sicilia, è assolutamente a rischio. Senta, ma è vero che vi portano a chiudere tutto? Assolutamente sì, come io ho detto poc'anzi, ho due figli maschi, uno dei 50 e hanno tanto del libretto di prima categoria, eppure sono a terra, lavorano a terra perché non c'è futuro a mare che già sono stacco, io a questa età che ho 65 anni, oramai sono in pensione, fuori questa barca che ho, che l'ho fatta bene di scarpiccia, ancora c'è un sacco di debito con il mutuo della banca, veramente in vento. Poi in volta c'è un pesce di fuori, c'è pescato locale, viene distrutto, una volta quando c'erano per esempio, non so, l'acquazione, tutte le fognature, i fiumi, sponcavano a mare, quello era tutto fatto, oggi escono veleni, perché ci sono le campagne che pompano, ci sono i, mi capisci, poi ci sono le fognature, perché non sono tutte a mare, i detesivi, pesci non ce n'è più, non ce n'è più perché sono incompatenti, sono ignorati della situazione. Insomma lei venderà tutto? Assolutamente sì, già l'ho messo su internet, vende tutto. Andiamo invece a Messina, una 47enne, non solo non ha pagato il biglietto della TM per girare per Messina, ma addirittura nel momento in cui il controllore le stava elevando la contravenzione, prima lo ha assalito verbalmente in malo modo, poi invece lo ha assalito fisicamente, procurandogli e al pronto soccorso dove è stato controllato gli sono stati dati alcuni giorni di prognosi, è l'assurdo che avviene in situazioni di questo genere. Adesso parliamo di un qualche cosa di positivo, nell'ex istituto salesiano di via Vincenzo Giuffrida a Catania, era stato chiuso per motivazioni storiche che ormai è inutile approfondire, si è riaperto un altro istituto, vediamo che cos'è e perché. Ecco il nuovo istituto Francesco Ventorino, ha preso il posto dello storico San Filippo Neri di via Vincenzo Giuffrida a Catania. L'edificio che era di proprietà dei salesiani è stato venduto 4 milioni di euro alla fondazione Sant'Orsola che qui vi ha trasferito tutte le sue scuole materna e primaria di primo e secondo grado. Ieri l'inaugurazione e la visita ai locali che sono stati rimodernati in tempi record, meno di 5 mesi presenti tra gli altri il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Giulian Caron, l'arcivescovo Salvatore Cristina, l'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla e il sindaco Salvo Pogliese a fare gli onori di casa. La dirigente scolastica Michela Doro che ha spiegato come la nuova realtà educativa intenda continuare anche la missione lasciata dai figli di Don Bosco. Certamente, in questo momento sta parlando Don Ruta che sta dicendo una cosa vera, cioè la scuola che era la scuola dei salesiani è stata data, venduta chiaramente per continuare una scuola, non un supermercato o un'altra opera commerciale, nel senso che crediamo tanto noi come scuola Sant'Orsola e ora nuova scuola Francesco Ventorino, nella formazione, nell'istruzione, nell'educazione come risorsa essenziale per lo sviluppo certo della persona ma anche della nostra terra. Ampie aule per l'asilo italiano e inglese per la scuola primaria e secondaria ma anche un grande cortile, una palestra regolamentare, un campo di calcio a 11, un campo polivalente da basket e pallavolo, un teatro da 350 posti, una chiesa, palestre per scherma, arti marziali e ginnastica ritmica, oltre ad una mensa da 120 posti con cucina interna, bar, sale ricreative e un auditorium da 150 posti, un grande spazio accogliente pensato per accompagnare i giovani in tutta la loro crescita ispirandosi al pensiero di Don Ciccio Ventorino scomparso nell'agosto del 2015. Fu lui nel 2011 ad avviare il percorso che ha portato alla nascita della Fondazione Sant'Orsola per gestire l'istituto fondato a Catania negli anni 40 dalla congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia. La scuola paritaria si inserisce a tutto spessore nel ventaglio dell'offerta formativa regionale, qui è in condizione di raccogliere esperienze pregresse ma anche nuove innervazioni che vengono da ambiti che operano da tanti decenni nell'ambito della pedagogia formativa e quindi credo che occorra non solo salutare con piacere questa iniziativa ma ancora di più ribadire il concetto che la scuola è palestra, il luogo di formazione e di addestramento non solo culturale ma morale per i cittadini di domani. È un evento di grande valenza dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista anche della divulgazione di valori mai tramontati che viene dedicata ad un grande uomo, un grande sacerdote, quale certamente è stato Francesco Ventorino. Permette anche la riapertura di una struttura quale quella dell'ex San Filippo Neri che ha accompagnato il percorso di crescita di moltissime generazioni e quindi credo che sia di grande valenza per la città nel suo insieme. E adesso andiamo ad Aci Sant'Antonio. Ricorderete che nei giorni scorsi siamo occupati della cherelle relativa all'isola ecologica e con le diatribie fra il Comune e la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti. Vediamo un po' la novità. Nuova replica alle dichiarazioni del consigliere Michele Quattrocchi in merito alla questione isola ecologica ad Aci Sant'Antonio. A puntare il dito dopo l'ex sindaco Pippo Cutuli stavolta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Finocchiaro che in riferimento a quanto detto dal consigliere di maggioranza sulla necessità di scavare a monte per capire più come sia stata aperta la struttura di via Sant'Onofrio piuttosto che soffermarsi sulle ragioni della sua chiusura parla di affermazioni incaute dato che proprio Quattrocchi per quasi tre anni è stato vice sindaco nella giunta Caruso e intanto il centro di raccolta per i rifiuti riciclabili resta chiuso tra polemiche acidi botte e risposta. Il disagio per la collettività rimane solo porta a porta nei giorni stabiliti niente sgravi in bolletta. Siamo stati costretti oggi a replicare in quanto abbiamo sentito esterrefatti le dichiarazioni del consigliere Quattrocchi. Riteniamo che siano offensive dell'intelligenza dei cittadini perché tutti sanno che l'attuale consigliere Quattrocchi che sostiene la maggioranza Caruso e quindi l'amministrazione che scaturisce da questa compagine politica è stato vice sindaco per ben due anni e mezzo nel precedente mandato che era appunto sempre a guida Caruso. Sappiamo benissimo che l'isola ecologica è stata aperta il 10 marzo del 2013 e che in quel contesto fosse intervenuta un'ordinanza sindacale appunto per l'apertura sperimentale questo un punto fondamentale dell'isola ecologica stessa. Forse il consigliere Quattrocchi non è a conoscenza che nel frattempo la disciplina normativa che riguarda i rifiuti tanto dal punto di vista regionale quanto dal punto di vista nazionale sia mutata e che quindi da un'isola ecologica che era stata aperta nel 2013 ci siamo ritrovati di fatto ad un CCR, un centro comunale di raccolta appunto, che ha bisogno di essere adeguato secondo i nuovi requisiti previsti dalla legge. Ci sorprende che Quattrocchi inoltre non sappia che l'ordinanza sindacale abbia una durata di sei mesi al massimo. Sappiamo appunto benissimo che l'amministrazione Caruso ha provveduto nel 2015 ad un'ordinanza sindacale ritenendo che vi fossero i requisiti appunto della somma urgenza e poi non ha previsto alcuna attività programmatica per far sì che questa situazione potesse definirsi nell'alveo della legge. È chiaro che abbiamo anche visto una conferenza stampa in cui pomposamente l'amministrazione annunciava un finanziamento ad aprile 2016 di ben 2,3 milioni di euro per un'isola ecologica che sarebbe dovuta sorgere appunto in territorio di Lavinaio. Tuttora non si hanno notizie quando si annunciava in realtà che entro il 2018 la stessa sarebbe stata operativa. Ecco a questo punto ci rivolgiamo direttamente al consigliere Quattrocchi dicendo a lui che avrebbe dovuto sapere appunto nella sua veste di vice sindaco che la normativa fosse aggiornata. Cosa ha fatto per orientare l'attività amministrativa nel senso dell'adeguamento? Cosa ha fatto l'amministrazione per programmare appunto la costruzione di un'isola ecologica che fosse di proprietà comunale? Speriamo che il problema si risolva anche per il bene di tutti i cittadini e cambiamo decisamente argomento pur rimanendo in qualche modo nella questione rifiuti. Sapete che a Siconella c'è la base americana, una base molto importante particolarmente nei periodi caldi e sapete anche che ce ne siamo occupati varie volte, che i Marines hanno come istituzione quello di avere il rapporto di buon vicinato con noi siciliane, con le città siciliane, con le zone vicine. Questa volta sono venuti a Santa Chiara, ad Acireale. Vediamo per quale motivo. Dove non arriva l'ente pubblico ci pensano i Marine della base di Siconella, ennesimo gesto lodevole stamattina, nel quadro del loro servizio di volontariato. I Marines infatti, aiutati anche da altri volontari, hanno ripulito la piazza Santa Chiara di Acireale, scerbando la zona e restituendo decoro ad uno spazio a verde importante nel cuore della città. Sì, noi siamo oggi qui presenti come base americana di Siconella con un gruppo di una decina, di una dozzina di marinai dell'ospedale americano di Siconella. Siamo qui su iniziativa di Ugo Trovato, del consigliere Ugo Trovato, che ci ha invitato a condividere questa giornata di volontariato per riqualificare questa bellissima piazza. Per noi è un'occasione anche per riallacciare i rapporti con Acireale, città. Noi siamo stati spesso in provincia, siamo stati a Santa Tecla, siamo stati a Guardia, nella chiesa, nella spiaggia. Abbiamo fatto tantissimi progetti, quindi siamo contenti di condividere questa giornata con gli accesi. L'iniziativa è stata voluta dall'Associazione Aurea, che ha sollecitato in tal senso l'intervento della base di Siconella. Abbiamo un unico giardiniere comunale e evidentemente c'è molto lavoro da fare, quindi ho cercato di fare questa collaborazione con gli americani, con il dottor Lunetta, con alcune associazioni che è la finestra e l'Aurea e ci stanno aiutando per riportare un pochettino, un po' d'ordine al verde pubblico che c'è da Acireale. Stiamo cercando di attenzionare i posti che sono un po' abbandonati, come era Piazza Santa Chiara e stiamo cercando di dare, come abbiamo detto di nuovo, un po' di pulizia perché veramente c'è tanto da fare, siamo da soli. La cosa che oggi mi è piaciuta tanto è che molti cittadini si sono uniti a questa lodevole iniziativa. Continueremo avanti pure a farne altre, attenzionando, come ho detto, altri quartieri e anche le frazioni della città 10 reale. E forse dovrebbero servire ad esempio anche noi cittadini residenti. Adesso parliamo di Erasmus, lo facciamo andando a Gicastello. Sono momenti importanti quelli dell'Erasmus perché c'è uno scambio di idee, di persone che circolano in Europa, particolarmente giovani. Sentiamo. Si concluderà il prossimo 28 ottobre a Catania il progetto curato dall'Associazione Sportiva Direttantistica Nova Sport con attività di laboratorio di confronto che attraverso il finanziamento dell'Agenzia Nazionale per i Giovani ha realizzato un interessante questionario in cui sono state sviscerate tutte le criticità condivise per aree tematiche. L'attenzione è concentrata sui net, giovani cioè compresi tra i 15 e i 29 anni che hanno sospeso gli studi e non hanno ancora trovato un'opportunità di lavoro. Una stima del luglio 2018 riporta l'allarmante dato di due milioni circa di net con Catania al 99esimo posto su 107 città prese in considerazione. Abbiamo pensato tramite l'Agenzia Nazionale dei Giovani che ce ne ha dato l'opportunità di organizzare un dibattito, un incontro su quelle che sono le tematiche che oggi è affliggono soprattutto i giovani. Da questo punto di vista abbiamo pensato che è giusto che tutto venga svolto col cosiddetto dialogo strutturato che è quello che mette nelle condizioni oggi i giovani di incontrare gli amministratori locali e porre a loro dei quesiti, delle domande su quelle che sono le criticità oggi del quotidiano. Tutto ciò comporta una difficoltà che oggi i giovani hanno e che è quello dell'approccio al mondo del lavoro che è fondamentalmente molto complicato. E noi abbiamo pensato se li mettiamo a confronto amministratori locali e giovani può essere che dal dialogo, perché è sempre dal dialogo che poi vengono fuori sempre le cose migliori, si riesce a pensare, a dare delle idee. Molto spesso ci sono delle iniziative che i comuni fanno e che probabilmente i giovani non conoscono, o Peppe Grizio perché non hanno voglia. Infatti la criticità maggiore che abbiamo riscontrato, abbiamo messo in linea un questionario chiedendo ai giovani svariate domande su svariate tematiche. Quella che ci ha più colpito è questa della cosiddetta NITZONE di cui abbiamo parlato, che sono tutte quelle problematiche che include tutti quei giovani che purtroppo non studiano e finiscono gli studi e li lasciano o li abbandonano e probabilmente non lavorano. Quindi restano parcheggiati in un'area che è assolutamente deleteria e che non porta a niente di buono. E adesso parliamo di vendemmia, siamo in autunno anche se da pochi giorni e autunno significa appunto vendemmia, a parte tutti gli altri prodotti che la terra ci regala. Tante le zone dove vengono appunto portate avanti queste manifestazioni. Siamo andati a Via Grande, vediamo. La vendemmia e le sue tradizioni protagoniste in questo fine settimana a Via Grande dove è entrata nel vivo la storica manifestazione di inizio autunno giunta quest'anno alla ventottesima edizione. Nel parco comunale a Niente come da tradizione vendita e degustazione di prodotti tipici ed esposizione di manufatti dell'artigianato locale. Oggi qui preparazione della mostarda secondo l'antica ricetta tramandata di generazione in generazione. Il dolce del periodo è stato poi offerto ai visitatori. Non appena si ha il mosto si deve mettere subito a bollire perché se non si fa subito in fermentazione non è buono più. Si deve bollire con la genere ma non è una legna qualsiasi. È la genere dei sermenti, sempre dell'uva diciamo, i tronchi d'uva, quelli che vengono buttati. Durante l'anno si fa la genere e poi si mette a bollire. Si va a bollire un tre quarti d'ora e man mano si schiuma. Poi noi la mettiamo in dei contenitori di acciaio, la lasciamo a decantare tutta una notte e la mattina viene filtrata. Poi la sera come ora prepariamo la mostarda. La mostarda è arrivata a questo punto semplice perché come si fa una semplice crema? Noi facciamo per comodità 10 litri di mosto e mettiamo un chilo di amido. In serata la chiusura dell'undicesimo festival regionale del folklore e la consegna del sesto premio all'identità siciliana Rita Corona assegnato quest'anno al Cantastoria Alfio Patti. Domani, ultimo giorno della Kermess, la mostra a mercato aprirà i battenti già dalle 10. Poi la sfilata dei vendemmiatori con gli abiti realizzati dal centro anziani accompagnati da carretti siciliani e dai cantanti di un gruppo folk. Alle 12 invece si potrà assistere nell'antico palmento alla pistatina dell'uva. Prevista in giornata anche la visita dell'arcivescovo di Catania Salvatore Cristina che comincia la sua visita pastorale. La manifestazione che ogni anno registra la partecipazione di migliaia di persone è stata organizzata dall'amministrazione comunale e patrocinata dall'assessorato regionale all'agricoltura. Rievochiamo nuovamente i vecchi temi, i vecchi gesti che si facevano da sempre, specialmente nel nostro paese perché è un paese, il nostro proprio collinare è dedito alla viticoltura quindi con tanti vidigni importanti e quindi seremo tutte le tradizioni della vendemmia. Siamo oltresi contenti perché abbiamo il piacere di avere tanta gente che viene a vederci. Stamattina abbiamo ultimato il giro per tutti i punti di Via Grande che fanno un po' ricezione turistica quindi per quanto riguarda il Grand Hotel, abbiamo un rally e tanti B&B che sono al momento pieni di gente anche straniera e quindi li abbiamo invitati domani a partecipare a questo evento. Ma un grazie va anche dato ai tanti amici di Via Grande che si sono come ogni anno adoperati affinché questo evento possa avere un risultato eccezionale. Mi riferisco sicuramente a tutti gli amici che preparano con tanto impegno e tanta dedizione alla mostarda, mi riferisco a tutte le associazioni in atto quindi dall'Avis alla Proloco alla Croce Rossa alla Protezione Civile. Ogni anno sono molto più motivati ed entusiasmati di organizzare questo tipo di manifestazione perché vanno un po' a morire tra virgolette rievocando quelle che erano le nostre origini. e quindi dico possiamo e dobbiamo o con me o senza di me andare avanti all'infinito perché il paese di Via Grande aveva queste origini. Noi ogni anno li rievochiamo come dicevo prima e invito tutti a venire a Via Grande, a visitare i nostri stand, a gustare soprattutto la mostarda buona, buonissima e grazie a che ci collabora perché man mano che le casse si svuotano per i comuni abbiamo bisogno di sponsorizzazione e altre cose. Diciamo che Via Grande si sta adeguando anche in questo. E mentre andiamo in onda, restiamo in tema e viene inaugurata a Santa Venerina la ventiduesima edizione di Eno Ettena, anche questa una vetrina non solo per i vini nella quale Santa Venerina dà sempre un punto di riferimento ma anche per tutte quelle che sono le tradizioni legate al mondo della vendemmia e cibi e un po' tutto il resto. E un'altra buona notizia, domani riparte alla stagione al Teatro Massimo Bellini di Catani dopo la pausa estiva e in concomitanza anche con l'anniversario della morte del Cigno Catanese che scomparse a Piutò nel 1835, proprio il 23 settembre. In scena la prima opera di Bellini, Aldson e Salvini, che non ha niente a che vedere con il Ministro dell'Interno, pensate, composta quando Bellini aveva solo 18 anni. Adesso la pubblicità. Nella giornata di domani, domenica 23 settembre, torna il bel tempo in Sicilia. Sulla nostra regione splenderà il sole per una giornata tipicamente dai crismi estivi piuttosto che autunnali, qualche nube in più nel pomeriggio nella parte orientale dell'isola. I venti saranno deboli di direzione variabile con locali rinforzi, i mari poco mossi, quasi calmi. Le temperature saranno ancora alte in alcuni casi al di sopra della media del periodo. La città più calda dovrebbe essere Siracusa con 32 gradi, poi Catania con 31, quindi Agrigento e Messina con 30. Per quel che riguarda invece le temperature minime, la più bassa sarà registrata Enna con 15 gradi centigradi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti